Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questo martedì 19 marzo. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e B1 variante. In A11 code per traffico tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola, il tutto verso Firenze. In A12 per incidente l'uscita di Colle Salvetti nelle due direzioni è chiusa fino alle 14 di oggi. Ci spostiamo in Fibirico e a tratti per i spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario, segnaliamo ritardi e modifiche alla circolazione per guasto tecnico passaggio a livello tra Granaiolo e Ponte Aelsa e per guasto tecnico passaggio a livello anche tra Pontassieve e Rufina. Oversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.